Buongiorno a tutti, siamo al MotoTest 2015 nello stand dell'Augusta con... Iliana, buongiorno a tutti. Oggi giornata fredda, piovosa. Fredda ma bellissima, c'è tantissima gente quest'anno più di altri anni, quindi sono veramente soddisfatta e contenta. Siamo qui al MotoTest, fra pochi minuti l'inaugurazione ufficiale, ci sarà Fabrizio Frizzi e anche Annalisa Minetti. Iliana, tu guidi il moto? Io guido le moto, ho una Dominator però, che non si sa più in giro, però presto acquisterò una Brutale, è quella lì, dietro. Ok, quindi ti piace la velocità? Sì, tantissimo, vado in pista a Vallelunga anche a correre. Ah, ammazza, proprio una motociclista vera e propria. È vero. Tra gli ospiti di oggi sai per caso chi ci sarà di pilota? No, ancora no. Ancora no? Ancora mi devo informare. E senti, questo nome è particolare, no? Che origine ha? Se ce lo puoi spiegare. Greca, Regina del Sole. Ah, bellissimo. Quindi Leana, Regina del Sole. E me, un'ultima battuta, vuoi dire qualche cosa? Io vi invito a girare tutta la fiera perché è una fiera veramente bella, vale la pena girarla. E vi auguro a tutti un buon giro e buon proseguimento. Grazie a te, complimenti, un bacio. Un bacio. Grazie, buon lavoro. Arrivederci.